Ciao amici di Italia Top Games, buongiorno, venerdì 11 ottobre e ve lo dico subito, oggi per i football c'è davvero poco da raccontarvi, poco o nulla, poco, diciamo poco perché una notizia c'è, può essere legata ad una novità che arriverà prossimamente. Però ragazzi come ho scritto nel titolo, se novembre doveva essere l'anno zero di football, fino a questo momento le cose non stanno procedendo bene, poi magari la settimana prossima arriva l'aggiornamento 2.2.0 con tantissime novità interessanti, forse perché io non li so proprio i contenuti e magari davvero si riparte la grande, però la gestione di questo mese fino a questo momento da parte di Konami è stata insufficiente e da bocciare, perché ad oggi, venerdì 11 novembre, ore 8 e 15, non sappiamo assolutamente ancora nulla su cosa ci sarà in questo benedetto aggiornamento 2.2.0. La data è arrivata proprio all'ultimo e neanche proprio, cioè si parla di grande manutenzione ma neanche legata all'aggiornamento 2.2.0 ma ovviamente sarà così e non abbiamo una notizia ufficiale e un briciolo di quelli che saranno i contenuti. Peggio di così onestamente non si poteva fare, ripeto, da un punto di vista comunicativo. Io mi auguro che Konami, se sta ascoltando me ma anche tutte le voci che arrivano dalla community, comprenda che deve cambiare assolutamente il tipo di comunicazione che fa, il tipo di interazione che fa con la community, perché altrimenti anche il gioco può essere bello quanto vogliamo, le novità dell'aggiornamento 2.0 possono essere belle quanto vogliamo, ma se non si ritorna in sintonia con la community nel modo di comunicare, sarà un anno zero comunque a metà. Quindi questo è essere chiaro. La comunicazione è fondamentale. Su UFL, faccio un esempio, non so ancora nulla, non mi esprimo assolutamente sulla qualità del gioco perché non lo sappiamo, ma fino a questo momento da un punto di vista della comunicazione sono sempre stati impeccabili. Quando c'era da rinviare lo hanno detto, hanno chiesto scusa, quando c'erano le novità le hanno annunciate, sempre hanno fatto così. Quindi ecco, una piccola software house che arriva nel mondo dei videogiochi ex novo, dimostra che si può comunicare bene. Ripeto, comunicare. Poi la qualità del gioco la vedremo. Io mi auguro davvero che la settimana prossima ovviamente sia l'anno zero di football e che ci siano tantissime novità, tantissimi contenuti interessanti, eccetera, eccetera. Però ad oggi, questo anno zero, questo novembre, non sta andando particolarmente bene. E poi, adesso parlo molto egoisticamente, oggi come oggi, con i social, con i video, eccetera, i creatori di contenuti sono un elemento imprescindibile per il successo di un gioco. Io sono, Italia Top Games è una realtà ovviamente non gigante, è una realtà di 13.500 iscritti, anzi grazie per aver far scattato il contatore ieri, grazie a tutti i nuovi iscritti, mi raccomando, fate conoscere questa realtà anche ai vostri amici, realtà che lavora per fare una ricerca seria, per trovare le notizie e non spacciarle per proprie e quando vengono invece chiaramente copiate. Ieri ho fatto un post per parlarvi di una questione, non ci voglio tornare sopra, adesso prenderò i provvedimenti con belle serigrafie, con il logo di Italia Top Games ovunque, quando troviamo delle cose, perché mi sono anche abbastanza scocciato, visto che non è la prima volta. Detto questo, quindi grazie per premiare questa realtà, fate conoscere questa realtà anche ai vostri amici, fate crescere l'iscrizione al canale, supportateci con abbonamenti, con i super grazie, ancora grazie a chi lo ha fatto ieri, con gli acquisti su Amazon, passando per link e affiliazione presente all'inizio della descrizione del video. E quindi dicevo, i creatori di contenuti, con questo silenzio agghiacciante, con questo assordante silenzio, come l'ho detto mille volte, ovviamente hanno problemi anche a creare contenuti. Oggi non posso che parlare di questo e poi andremo a parlare anche delle novità di FIFA, ma di football davvero non ci sono novità. Scusate, non di FIFA, della FIFA, per essere chiari. Comunque, questa è la situazione ragazzi ad oggi, non ci sono ancora novità, è passato anche ieri, e questa season 1 che continua, anche se, ve l'ho mostrato ieri, dovrebbe essere terminata ieri, continua, come dire, a questo extra time un po' incomprensibile, perché, ripeto, ufficiale, ad agosto c'era scritto chiaramente che la season sarebbe finita ieri. Ma vabbè, non è un grosso problema che continueremo per un'altra settimana, cioè non è un problema, il problema è che Konami non comunica. Detto questo... Scusate, starnuto, io faccio i video in diretta, lo sapete, ho sempre pochissimo tempo e sono contento che appreziate anche questa sorta di diretta registrata, per così dire, ma non ho modo proprio per altri impegni lavorativi di fare di più e so che voi apprezzate anche questo, anche il bello della diretta. Detto questo, l'unica novità di oggi riguarda un tweet di eFootballer, che è un influencer, diciamo così, francese, e dice che la società che si occupa della Bundesliga renderà obbligatoria la partecipazione dei club tedeschi alla Bundesliga virtuale nel gioco concorrente di football, qui la traduzione automatica è pessima, nella partita simultanea di football, vabbè, è ovviamente di FIFA. Minacce in moltare il Bayern Monaco per il suo rifiuto, in discussione alla sua partnership con Konami, che porterebbe a 5 milioni di euro all'anno. Staremo a vedere, ovviamente, questa cosa, guarda anche l'Italia, perché sappiamo bene che il 25 novembre, Konami, finalmente, il 25 novembre sarebbe, non la settimana prossima, quella dopo, ha annunciato una rivoluzione per l'eSport in Italia, e ovviamente questo ci fa capire che c'è maretta, non è così pacifica la convivenza tra Konami e EA Sports, perché oggi, indubbiamente, EA Sports ha un predominio sul mercato chiaro, non lo svelo certo io, è chiaro il predominio sotto ogni punto di vista, ma queste situazioni ci dicono che comunque, a medio e lungo termine, non è che EA Sports sta così tranquilla, non reputa Konami così fuori dai giochi, perché altrimenti, va bene, non c'è il Bayern Monaco, ciao. Invece questa notizia ci fa capire che comunque Konami, con tutti gli errori che ha fatto con i football, con tutto quello che sappiamo essere successo dal settembre del 2021 a come minimo l'aprile del 2022 e anche poi, ma diciamo che questo gap è stato mortale, almeno fino a questo momento, però Konami si sta riorganizzando, siamo curiosissimi di scoprire questa rivoluzione eSport per l'Italia, e quindi questo ci fa capire che comunque, ripeto, a livello di partnership Konami l'ultimo anno si è mosso benissimo, ha ripreso Milan e Inter, ha sette squadre per l'Italia, ha fatto vari tipi di iniziative, nuovi testimonial, eccetera, eccetera, da questo punto di vista non ho nulla da dire a Konami, l'unica cosa, l'ho detto, dovrebbe un po' tornare ad avere qualche squadra partner in più in Europa, perché a parte l'Italia, nel resto dei campionati non sono tantissime, Arsenal, Manchester United, Barcellona, Bayern Monaco, mi sembra anche il Bayern Leverkusen, quindi sarebbe interessante capire pure la situazione del Bayern Leverkusen, forse il Bayern Leverkusen è squadra partner, ma non è una squadra esclusiva. Comunque questa cosa ci dice che comunque, se non ci fosse un'attenzione di questo tipo, cioè il Bayern ha firmato una esclusiva con i football, perché deve essere costretta a partecipare, poi non conosco la legge tedesca, non conosco gli accordi della Bundesliga, però vuol dire che c'è, c'è un interesse specifico per contrastare la concorrenza, diciamo così, ecco, diciamo in questo modo, non è una situazione così cristallizzata che non può cambiare, ecco, questo voglio dire, in generale. Poi dopo, ripeto, può essere che gli esports con gli esports football club andrà ancora oltre, oppure magari sia esports che Konami saranno spazzati via dalla FIFA con i loro nuovi giochi. Per il momento, a proposito di FIFA, indubbiamente siamo rimasti un po' sconvolti negativamente dai primi quattro progetti della FIFA. Altered State Machine, Upland Me, Match Day, Fig D, non so se si legga così, e questi sono i primi quattro giochi della FIFA post EA Sports. Se il buongiorno si vede in mattina, ragazzi, siamo messi male, perché di giochi che interessano a noi veri giocatori, passatemi questo termine, qui non c'è nulla. C'è il metaverso, c'è il blockchain, c'è l'NFT, ci sono tutte, il web 3.0, tutte robine casual, tutte robine che con i giochi, passatemi anche questo termine, hardcore, ben poco hanno a che vedere con noi. Ecco, questo è Rise Up, un gioco quattro contro quattro, in cui bisogna predire chi vince i match, e ci sono dei premietti. Questi sono i giocatori, questo è qui, quattro contro quattro, mosse all'intelligenza artificiale, e potete capire che difficilmente io mi scaricherò questa app. Poi c'è questo altro titolo, FIFA World Cup Qatar in the Upland Metaverse, il metaverso, lo sapete, queste robine qua, che tanto bene non stanno andando. In generale, tutte esperienze di questo tipo, che indubbiamente, devo dirvi la verità, a me non fanno impazzire tutt'altro. Speriamo che, come dire, questo primo approccio della FIFA ai videogiochi sia dato dal poco tempo a disposizione, visto che i mondiali stanno per cominciare, e volevano sfruttare ovviamente la scia dei mondiali di Qatar, ma speriamo pure che a breve scopriremo progetti, diciamo, più da gamer, da veri gamer come noi, che ama PES, che ama i football, che ama FIFA, comunque giochi strutturati, giochi dove c'è molto da giocare, e non da guardare, o comunque da un'esperienza interattiva molto limitata. Staremo a vedere, ragazzi. Ovviamente io vi terrò aggiornati, come sempre, su tutto quello che riguarda il mondo dei videogiochi. Vi preannuncio che oggi il palinzesto torna a tre video giornalieri, perché proprio non riusciva ad andare avanti a fare anche le partite amico, e ovviamente c'è il campionato che mi dà tanta adrenalina, per così dire. Sono a un certo numero di partite senza sconfitta, vorrei tenere l'imbattibilità il più possibile e andare avanti, ovviamente, nelle divisioni. Quindi il nuovo palinzesto sarà la mattina, il video delle news di football e degli altri giochi di calcio e di altri giochi in generale. Dopo pranzo, a rotazione, God of War Ragnarok, Football Manager 2023 con una nuova esperienza mondiali, FIFA 23 con l'esperienza mondiale, iniziata con la Corea, invece con Football Manager farò con un'altra nazionale, passo da Football Manager normale al Football Manager Console, che è già uscito su Xbox, giocato in cloud su PC, e poi anche vado avanti in Gotham Knights, si ruoteranno questi quattro giochi nel video del pomeriggio. La sera, la sera, le partite del campionato, ore 21, torniamo al solito, quindi tre appuntamenti giornalieri, diciamo che possono bastare di più, a parte il giovedì c'è anche il TG Tech, la pillola del TG Tech e il regalo del TG Tech. Questa settimana, oggi pomeriggio, vi svelerò in zona community, anche per quello che volete iscrivervi al canale per ricevere tutte le notifiche, riceverete qual è il regalo della prossima settimana del TG Tech. Bene ragazzi, per oggi è tutto, io spero davvero con tutto il mio cuore di darvi presto novità su questo benedetto aggiornamento 2.2.0, di cui ad oggi, lo ribadisco, da parte di Konami non ci sono notizie ufficiali. Vi ho fatto vedere mercoledì le investigazioni, andando a ricercare i tweet del 31 maggio, in cui Konami diceva che sarebbero uscite le squadre con un contenuto a pagamento, ma Rinald Galvani parla anche di un possibile aggiornamento in arrivo anche a dicembre. Insomma, ripeto, gli aggiornamenti li hanno annunciati ufficialmente, ma non è detto che arrivino con l'aggiornamento 2.0, potrebbe arrivare anche a dicembre, o potrebbero anche spostarli, perché oramai se anche la season va avanti rispetto all'annuncio ufficiale non possiamo dire nulla. Comunque, in ogni caso, quando ci saranno novità ragazzi, e di importanti, si fanno i video non previsti dal palinsesto, subito online per raccontarvi tutto. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi inizio ad augurare buon fine settimana, ma in questi giorni, tre video al giorno, ve li beccate anche nel weekend. Grazie a tutti per l'attenzione, e a presto. Ciao!